Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buon pomeriggio e buon calcio da Giampiero Foglia Manzillo. Ultima giornata di campionato, tra poco in campo Cagliari e Milan per l'ultima partita ufficiale al Sant'Elia, che va in pensione dopo 47 anni di attività. Fischi Abisso si comincia. Cerca profondità il numero di Joe Pedro, che riesce bene a prolungare la corsa a sinistra di Farias. Aria di rigore lato corto, ancora Farias, bello l'appoggio per la botta con il destro di Ionizza. Traversa clamorosa, dopo 5 minuti di partita, la prima vera occasione del match, firmata Artur Ionizza. Corriello centrale, cerca il filtrante per Joe Pedro, posizione regolare, uno contro uno con Donnarumma, battuto, la rete del vantaggio Cagliari al minuto 17 con la firma di Joe Pedro. Fanno 7 in campionato per lui, Cagliari 1-0. La battuta di Honda, il colpo di testa di Paletta, prolungare. Crosta cerca la deviazione. Non c'è gol sul tentativo di Carlos Bacca. La ricostruisce così Abisso. Avremo modo di averne conferma con la goal line technology. Si riparte al Sant'Elia. Poi Ocampos, Paletta che prova il sombrero e ottiene un calcio di rigore per l'intervento di Ionizza. Rigore per il Milan dopo 17 minuti della ripresa. Fischia Abisso, parte Bacca, la battuta col destro, la respinta di Crosta. Si salva il Cagliari all'esordio in Serie A. Il portiere rosso-blu neutralizza la conclusione di Carlos Bacca. Si resta sull'1-0 per i Sardi. Palla larga per Joao Pedro, lo scambio. Ancora Joao Pedro col destro deviato. La manona di Donnarumma in calcio d'angolo. La battuta di Joao Pedro. A giro Donnarumma non benissimo. E poi il tentativo di ribattuta di De Iola. Esce adesso Kuzka, profondo, per la corsa di La Padula. Inseguito da Pisa Cane. La Padula adesso alza la testa, prova a metterla in mezzo. Bacca sull'intervento di Crosta. Altro fischio di Abisso. Secondo rigore del pomeriggio a favore del Milan. La rincorsa di La Padula. La battuta col Mancino. Spiazzato Crosta. La rete dell'1-1. Ottavo gol in campionato per il numero 9 del Milan. Taxidis e poi Joao Pedro. La corsa di Hann. Chiude su di lui paletta. C'è il fischio di Abisso. E attenzione. Secondo cartellino giallo per Gabriel Paletta. Che finisce qui la sua partita. Farago. Pallone di ritorno per Joao Pedro. Posizione regolare col destro. Non riesce ad angolarlo. Donnarumma salva. La rincorsa di Joao Pedro. La battuta con il destro. Il miracolo di Donnarumma. E' il tap in vincente di Pisacane. Terzo minuto di recupero. Il Cagliari torna in vantaggio. Con il primo gol in Serie A di Pisacane. Cagliari 2-Milan 1. Esplode il Sant'Elia. E finisce qui al Sant'Elia. Il Cagliari batte il Milan per 2-1. Il Cagliari. Il Cagliari.